È evidente che in questi giorni, queste settimane, vi sia grande attenzione da parte della stampa internazionale su quanto sta avvenendo in Ucraina. Sappiamo che c'è stata questa invasione da parte dell'esercito russo ordinata dal Presidente Putin in flagrante violazione del diritto internazionale, ma attenzione, questa guerra che insanguina l'Europa orientale non è assolutamente l'unica. La lista delle guerre dimenticate, di quelle che non fanno notizia, è davvero lunga e tra queste spicca certamente la crisi che insanguina l'Etiopia dal novembre del 2020, quindi ad occhio e croce da circa un anno e mezzo. Il bilancio delle vittime è impressionante, oltre mezzo milioni di morti, quasi tutti civili, si parla di 3 milioni di sfollati, ci sono tra i 65 mila, 70 mila se non di più rifugiati nel vicino Sudan. Da una parte ci sono le forze lealiste che sono fedeli al Presidente Abiy Ahmed, che sono ultimamente accompagnate da milizie etniche e da un intervento deciso da parte dell'esercito eritreo, in sostegno all'iniziativa governativa di Addis Abeba e dall'altra c'è il fronte di liberazione popolare del Tigrai che vuole affermare inizialmente la propria autonomia, a questo punto certamente l'indipendenza rispetto al resto dell'Etiopia. Nel marzo, alla fine di marzo di quest'anno, è stata raggiunta una tregua umanitaria, una tregua proposta prima dal governo di Addis Abeba a cui hanno aderito le forze del TPLF, cioè di questo fronte di liberazione popolare del Tigrai. C'è stato un abbassamento sicuramente di quella che è la soglia dei combattimenti, ma gli aiuti umanitari, e quando parlo di aiuti umanitari intendo dire aiuti alimentari, ma anche medicine. Tutto questo sta entrando con il contagocce. Si tratta di una guerra civile, poi a pensarci bene fino a un certo punto, perché come dicevo prima c'è stato un intervento, c'è tuttora un intervento da parte delle forze militari della vicina Eritrea. Il dato sconcertante è che secondo il World Food Program, cioè secondo il programma alimentare mondiale, c'è un'emergenza alimentare dovuta alla siccità che sta interessando questa regione dell'Africa, per cui ci sono oltre 20 milioni di persone che rischiano di soffrire per inedia, per fame. C'è da aggiungere che proprio in questi giorni, il 6 aprile scorso, è stato reso noto un rapporto pubblicato da Human Rights Watch e da Amnesty International, un rapporto in cui vengono denunciate le vessazioni, le violazioni di diritti umani perpetrati in questi mesi, in questo anno e mezzo dalle forze lealiste. Si fa riferimento anche ad alcune violenze che sono state perpetrate dal fronte di liberazione popolare del Tigrai, soprattutto nella zona della Far e della Amara, ma devo dire dal punto di vista numerico le violazioni perpetrate da queste autorità del Tigrai sono di gran lunga inferiore, numericamente parlando a quelle perpetrate dalle forze lealiste. Il dato di fatto è che c'è un numero indicibile di persone che viene immolata quotidianamente sull'altare dell'egoismo umano ed è per questo che non è lecito stare alla finestra a guardare. È auspicabile che quanto prima partano dei negoziati che portino davvero ad una soluzione di questa crisi, ma perché tutto questo sia possibile, è importante sottolinearlo, è auspicabile un maggior impegno da parte dell'Unione Africana, ma anche da parte di quei paesi, di quelle grandi potenze, di quegli attori internazionali che in questi anni hanno investito molto in Etiopia facendo business a 360 gradi. Penso all'impero del Drago, alla Cina, penso alla Russia, penso agli Stati Uniti, penso all'Unione Europea. Certamente non è lecito stare alla finestra a guardare. Come scriveva un grande economista francese, Fédéric Bastiat, dove non passano le merci passano gli eserciti. È evidente che quando vi sono situazioni di conflittualità dietro le quinte ci sono sempre interessi legati al dio denaro, dio con la D minuscola.